Tengono i volumi totali nel porto di Trieste nei primi 5 mesi dell'anno, anche se l'andamento dello scalo, come di molti porti mediterranei, è influenzato dal quadro geopolitico. Sono state appena 727 le navi container che tra gennaio e maggio hanno attraversato il canale di Suez, in calo di 69 unità, contro le 676 che hanno allungato la rotta, doppiando il capo di Buonasperanza. Malgrado la crisi congiunturale, lo scalo Giuliano cresce del 5,5% sui volumi complessivi, con 24 milioni di tonnellate di merce movimentata rispetto al periodo gennaio-maggio dell'anno scorso. Le rinfuse liquide trainano la crescita, lieve calo invece delle merci varie e delle unità rorò transitate. Molto negative le rinfuse solide, con meno 78,5%, perché si è fermata la categoria prodotti metallurgici. Contrazione del 10,6% nei primi 5 mesi anche per i container, con 313.137 TU movimentati, ma la flessione tende a ridursi. Calo congiunturale per il traffico ferroviario, meno 10,5%. Il teoreste è molto variegato in termini di differenziazione di portafogli, quindi i rischi sono anche divisi. Certo, il contenitore dal Far East è più soggetto a questo tema. Vedremo, noi siamo sempre ottimisti. È chiaro che se le crisi dovessero prolungarsi per tempi indefiniti, lo scacchiere rischia di diventare più critico. Uno sguardo anche al porto di Monfalcone, che da solo ha sviluppato volumi complessivi nel periodo gennaio-maggio, di un milione e mezzo di tonnellate di merce, meno 12,6%, ma sembra in ripresa con il miglior mese di maggio degli ultimi dieci anni.